È stato un evento davvero importante per la città perché per quattro giorni abbiamo avuto migliaia di presenze al Lido. I dati che abbiamo ci confermano l'impatto economico importante che ha questo festival, il 22esimo tra l'altro, senza presentare ancora delle rughe, anzi sempre più vitale, un festival che coinvolge tanti personaggi e tante aziende della città di Fano. È sabato che forse è stata anche una delle giornate dove il tempo ci ha favorito, ma per esempio oltre 2300 brodetti serviti nello spazio Brodetto Bro, 500 bambini nel Brodetto in Kids, più di 300 persone sulla motonave a vedere il mare, come si pesca, tutta l'attività marittima. È talmente tanto venuto bene, talmente tanto importante, ti lascio uno spoiler, il prossimo anno la gara, che anche quest'anno è stata importante, gente che è venuta da tutta Italia, gente che è stata più di due giorni per assistere il vincitore, un bellissimo gioco, fatto anche tra chef, tra chef anche veramente importanti, il prossimo anno non raddoppiamo ma decuplichiamo la gara perché vorremmo farne anche una a livello internazionale, quindi non solo la gara nazionale ma internazionale. La stiamo studiando e a breve poi avremo le prime risultanze. Abbiamo dei numeri molto alti, numeri molto importanti e questo ci dà sempre quella spinta in più per ricominciare da oggi, anzi perché come dico sempre si lavora anche per i nostri ristoratori e da oggi fino al 30 giugno in oltre 20 ristoranti della città di Fano si potranno gustare il brodetto e tante specialità della nostra cucina marinara in 20 ristoranti della città. Questo ci dà ancora la forza per continuare a proporre non solo un festival ma proponiamo una città, le sue eccellenze, la sua marineria e tutto il comparto adriatico al mondo intero perché a questo punto non possiamo negare che questo festival è diventato un festival internazionale. Inizia fuori il brodetto, anche questo l'attività collaterale, l'attività parallela dove i nostri ristoratori cominciano a preparare e hanno messo già inserito a prezzi convenzionati nei menu il brodetto, quindi prosegue per un altro, oltre un mese questa attività.